Il Giappone è un paese ricco di leggende inquietanti che da anni affascinano il mondo intero. In questo video vi parlerò di 10 leggende metropolitane giapponesi. Tutti conoscono la tavola Ouija, ma non molti sanno che in Giappone è famoso un gioco molto simile. È molto conosciuto fra gli studenti giapponesi e alcune persone impressionabili hanno avuto fenomeni di ansia, depressione, tanto che in molte scuole giapponesi si è deciso di vietare questo gioco. Ma in cosa consiste? Si prende un foglio di carta e si disegna il simbolo del tori, la porta del santuario shintoista, in alto in rosso. Ai suoi lati si scrive sì e no, mentre sotto si scrivono i numeri da 0 a 9 e le lettere dell'alfabeto. A questo punto si deve aprire una porta o una finestra per permettere allo spirito di Kokuri-san di entrare. Per entrare nel mondo dei vivi, Kokuri-san utilizzerà il simbolo del tori disegnato sul foglio. Il gioco inizia ufficialmente collocando una moneta sul simbolo del tori e ogni partecipante dovrà mettere il suo dito su di essa. La formula per evocare lo spirito è Kokuri-san, Kokuri-san, se sei qui, per favore, sposta la moneta. A questo punto si può chiedere a Kokuri-san qualsiasi domanda e lui risponderà utilizzando le lettere del foglio o il sì e il no. Per terminare la seduta bisogna chiedere a Kokuri-san di andarsene e lui dovrà spostare la moneta su sì. Il foglio andrà quindi distrutto o bruciato e la moneta utilizzata andrà spesa. La leggenda dice che chi cammina da solo per le strade di notte rischia di incontrare Kuchisake-onna, la donna dalla bocca squarciata. Il suo volto è nascosto da una mascherina e ai passanti ella chiede «Sono bella?». Se la persona le risponde di no, lei utilizzerà le forbici per uccidere il malcapitato. Se invece si risponde di sì, Kuchisake-onna si toglierà la mascherina e ripeterà la domanda. Se si risponde ancora di sì, Kuchisake-onna taglierà la bocca della vittima e la renderà simile alla sua. Se invece si risponde di no, la vittima verrà tagliata a metà. In ogni caso, non c'è scampo. Nelle scuole giapponesi è famosa la leggenda di Anako-san, lo spirito di una ragazza che infesterebbe il terzo bagno del terzo piano delle scuole. La ragazza può essere richiamata bussando per tre volte al suo bagno e chiedendo «Anako-san, sei lì?». Se lo spirito è presente, risponderà affermativamente. A questo punto, a seconda della versione, Anako-san potrebbe trascinare la vittima all'inferno utilizzando il gabinetto, mentre in altre versioni dovrebbe semplicemente giocare con chi l'ha evocata e c'è chi pensa che Anako-san sia addirittura un'entità benefica che proteggerebbe gli studenti da altre creature dei bagni. Esistono infatti numerose leggende su altri spiriti che infesterebbero i bagni pubblici e delle scuole. Questa creatura leggendaria è una donna dotata di una seconda bocca posta sulla nuca. Questa strana bocca costringe la donna a sfamarla continuamente e se non lo fa, si mette ad urlare. La leggenda dice che Futakuchi Onna era una matrigna che odiava il suo figliastro. Lo lasciò morire di fame mentre sfamò gli altri figli. Lo spirito del figliastro aspettò il momento giusto e non appena la matrigna si ferì alla nuca per via di un incidente con un'ascia, infestò la ferita, trasformandola in una bocca. Esistono anche altre varianti di questa storia. I Rokurokubi sono creature dalla forma di donne, capaci di mimetizzarsi perfettamente nella società. Di notte hanno la capacità di allungare il collo e si divertono a terrorizzare gli esseri umani. In alcuni racconti buddhisti si dice che i Rokurokubi erano umani che hanno infranto precetti della religione e sono ora condannati a succhiare il sangue di altre persone che hanno infranto i precetti. Il Gashadokuro è uno scheletro alto più di 15 metri e la leggenda dice che si è formato da ossa di persone morte per malnutrizione. Questo yokai si aggira dopo la mezzanotte nelle foreste e per i sentieri non illuminati, staccando di netto la testa a coloro che incontra. Può diventare invisibile e non può essere distrutto in alcun modo. Molti giapponesi conoscono la leggenda della donna che morì scivolando nella vasca da bagno. Da questa leggenda è nata una challenge. L'evocazione di Daruma-san prevede di riempire la vasca da bagno e di seguire delle regole specifiche. Dal mattino successivo la presenza di Daruma-san seguirà l'evocatore ovunque e per vincere la sfida si dovrà usare la mossa di karate che prevede di tagliare l'area con il braccio dall'alto verso il basso. Alcune leggende giapponesi narrano che al compimento del centesimo anno di vita gli oggetti possono animarsi. I Karakasa sarebbero degli ombrelli che hanno superato appunto il secolo di vita e vengono rappresentati con un occhio solo. Akana-ame, letteralmente leccatore di sporcizia, è una creatura che appare nei bagni per leccare lo sporco e la polvere, sfruttando la sua saliva velenosa. Questa storia viene raccontata soprattutto ai bambini allo scopo di spaventarli, in modo da convincerli a tenere puliti i bagni. Makura Gaeshi è la leggenda dello spirito di un bambino che si diverte a mettere il guanciale di chi dorme da solo sotto i suoi piedi. Ma c'è anche chi dice che Makura Gaeshi non si limiterebbe a questo e che sia anche il responsabile delle paralisi del sonno, dello scuotimento improvviso dei letti durante la notte o addirittura che non si limiti a girare il cuscino, ma anche la persona stessa che si risveglierebbe al contrario nel letto. Questa cosa da piccolo mi è successa spesso, tutto ciò è molto inquietante. Queste erano dieci leggende metropolitane giapponesi.